L'81esima edizione potrebbe sembrare la storicizzazione di un percorso di successo e potrebbe anche essere il momento nel quale con soddisfazione si prende atto del spessore della qualità del lavoro svolto fin qui. Invece vuole essere un momento di innovazione, un momento nel quale questo mondo si mette in discussione e non può perdere un'occasione come questa.